Dopo lo sbarco altalette dei migranti, il barchino giace ancora sugli scogli, negligenza e inquinamento. Due giorni fa lo sbarco altalette inconsueto, poi l'intervento delle forze dell'ordine, 20 migranti fermati. Presumibilmente i bengalesi sarebbero stati trasportati inizialmente da una nave più grande che li ha lasciati a poca distanza dalla costa per poi allontanarsi, mentre il barchino li accompagnava a terra. Si desidera portare all'attenzione pubblica proprio quel barchino in vetro resina, segno di grave mancanza di intervento tempestivo da parte degli organi amministrativi, politici e giudiziari, riguardo alla rimozione dello stesso utilizzato per uno sbarco avvenuto la sera del 5 novembre sull'isola d'Urtigia. Queste le prime dichiarazioni di Ivan Scimonelli, capogruppo di insieme al Consiglio Comunale. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli fossero previste, è ben note che la barca avesse dimensioni piccole per essere facilmente gestibile per una rapida rimozione. non si è provveduta ad adottare le misure necessarie per evitare che l'imbarcazione rimanesse sugli scogli, con l'inevitabile conseguenza della sua distruzione. Fermenti di vetro resina, materiale altamente inquinante, sono stati così dispersi in mare con un impatto negativo sull'ecosistema marino e sulla nostra isola, continua Scimonelli. L'inerzia dimostrata nel gestire questa situazione evidenzia una mancata tutela delle nostre coste e del nostro patrimonio ambientale, conclude il capogruppo di insieme.